da aprile in poi nei campi cominciano a spuntare queste piante e tantissimi di voi mi chiedono che piante siano alcuni mi chiedono se sono spinaci selvatici no assolutamente questa è la fitolacca fitolacca americana famiglia fitolaccacee viene chiamata anche uva turca oppure in alcune zone erba amaranta o amaranto per il potere colorante delle bacche e per il colore rosso che assume spesso il fusto attenzione però a non confonderla con l'amaranto mi raccomando perché l'amaranto è assolutamente commestibile invece questa vedremo che la commestibilità è nì quindi è una pianta che va assolutamente saputo usare andiamo prima a vedere la struttura allora come vedete è una pianta completamente glabra cresce molto velocemente e arriva in poco tempo anche ai tre metri questo appunto è il fusto che ha già un notevole diametro e questa secondo me non è spuntata che settimana scorsa guardate le foglie le foglie si dispungono in maniera alterna sul fusto sono brevissimamente picciolate e hanno questo lembo che vale l'anciolato vedete faccia anteriore della foglia e faccia posteriore ecco qua poi si dicevo poi diventerà molto alta sviluppa prima dei fiori e poi delle bacche bacche raccolte in piccoli grappoli che hanno questo potere colorante pazzesco e sono molto amate anche dagli uccellini tra l'altro allora dicevo che questa è una pianta con una commestibilità nì nel senso che questa cioè questi polloni che spuntano dal terreno finché raggiungono un'altezza di 30 centimetri sarebbero l'unica parte commestibile della pianta ma come assolutamente solo esclusivamente cotti mai ripeto mai crudi perché contengono delle sostanze soprattutto sono indicate tra le sostanze saponine triterpeniche e lectine con proprietà mitogene che possono dare dei problemi anche molto gravi se la pianta viene mangiata cruda possono determinare plasmaticitosi anomalie ematologiche ma soprattutto se ingerite le foglie crude o anche le bacche crude e si parla di circa 20 bacche potreste avere un blocco 4 o 20 core di primo grado quindi non proprio una passeggiata potreste anche andare incontro alla morte quindi attenzione alle bacche e alle foglie crude però soprattutto le foglie crude allora questa in molti paesi soprattutto anglo sassoni ad esempio negli stati uniti se voi guardate i forager americani spesso la propongono cotta perché si mangia frequentemente ma anche in europa molti forager appunto la propongono cotta c'è stato un periodo addirittura che negli stati uniti vendevano proprio la fitolacca in scatola ovviamente cotta quindi questi polloni lessati la vendevano in scatola perché non è male come pianta io le ho fatti lessati e le ho le ho proposti con dell'olio a crudo e della buccia di limone e sono piaciuti molto hanno un sapore che ricorda vagamente gli asparagi l'altro vantaggio è che una pianta veramente invasiva veramente che si trova ovunque quindi se dobbiamo proprio scegliere mangiamo le piante invasive così gli rendiamo la vita difficile questa però mi raccomando è una pianta solo per esperti e va mangiata esclusivamente cotta se mai la voleste provare esclusivamente cotta e soprattutto quando è in questo stadio in questo stadio è perfetta perché non la tossicità è minima in più se la cuocete la rendete pari a zero e che altro un'altra curiosità su questa pianta con le bacche venivano prodotti degli inchiostri le bacche hanno non vengono utilizzate per tingere perché il colore non è duraturo cioè una delle delle peculiarità che deve avere una pianta per essere considerata una pianta tintoria oltre a poter saper colorare e che il colore sia duraturo invece questa pianta da un colore che è molto sensibile alle variazioni di ph e soprattutto non è duraturo e però è stato usato in passato per gli inchiostri anche adesso viene utilizzato per gli inchiostri per tingere la carta soprattutto e si dice che la costituzione americana sia stata scritta con dell'inchiostro di fitolacca io non ho trovato però purtroppo riscontri a questa diceria quindi non so se sia vera o sia solo una cosa un po' folcloristica diciamo eccola qua quindi fitolacca americana uva turca sicuramente l'avrete vista e probabilmente l'avrete anche nei vostri giardini grazie a tutti grazie a tutti